I concorrenti del reality show sono ripresi costantemente dalle telecamere. Ad ogni modo a volte capita di dimenticare questo particolare oppure di credere di essere in un posto non soggetto alle inquadrature. Questo è ciò che è accaduto ieri sera a Pago il quale ha rivelato cosa pensano realmente lui e Serena delle critiche ricevute al GFVIP. Il ragazzo in modo alquanto colorito e aggressivo ha detto che ad entrambi non frega assolutamente nulla di ciò che pensa la gente. Il loro unico obiettivo al momento è quello di viversi questa storia e seguire ciò che gli dice il loro cuore. Nell'esprimere questo concetto però il cantante è stato parecchio perentorio dato che credeva di non essere ripreso dalle telecamere. Alcuni utenti di Twitter però hanno notato l'accaduto e non hanno potuto fare a meno di commentare la cosa sui social. Chi si è reso conto di questo clamoroso fuori onda di Pago e Serena al GFVIP si è scagliato contro la coppia. Se a loro due non importa nulla di ciò che pensa la gente figuriamoci quanto possa importare di loro alle altre persone. Con questo inaspettato autogoglio il cantante sembra essersi giocato malissimo le carte che avrebbero potuto condurlo verso la vittoria. Inoltre anche i concorrenti della casa hanno notato che da quando è entrata Leonardo il ragazzo ha smesso di essere allegro e sucevole come era all'inizio. A quanto pare dunque la presenza della sua fidanzata non sta giovando molto al concorrente. E voi che ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.